E' lui, è lei, è l'altra, non lo sappiamo, lo scopriremo a breve, ecco, è lui, è il festeggiato del momento, signori e signori, si è vestito per l'occasione, si è tirato in ghingeri in una maniera spettacolosamente unica, come ti chiami? Lorenza, 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 ecco, Lorenza, intanto va a prendere posto, eccoci qua, allora, Lorenza, Lorenza, aspetta, gara, 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 aspetta, aspetta, vai, via il televoto, via il televoto, secondo voi, chi ce ne ha di più, chiama al 333 4715972 e vota lì, bom, bom, più grosso secondo te? Allora, Lorenza, Lorenza, dimmi un po', ma hai sempre avuto queste poppe? Oh, ti scappa una poppa! Sì, sì, ho sempre avuto, tutto. Cosa festeggi, Lorenza? Mio compleanno. Mio compleanno, happy birthday, davvero! E quanti anni compi, Lorenza? 25. 25, wow, sei fantastica. Lorenza, guarda, c'è anche, guarda come li ha fatti bene, ha anche i dettagli, ha badato, una cosa spettacolare. Ha un capezzo da stoa. Uè, ma che curiosa, cioè, allora se lui tocca le tue, eee, eee, libertà, libertà, chiamami il tipo lì. Lasciate scappare quelle bocce, giacati. Allora, aspetta un secondo, chi è, chi è, vieni qua, dai, chiama, chi è, chi è, chi è, il tuo amico? Lui è il tuo rappresentante legale? Lui è il mio rappresentante legale, perfetto, c'è un rappresentante legale, dobbiamo sapere un'informazione. Per uscire con questa fantastica dama, cosa bisogna fare? 899, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 90, 69. E costa solo un milione di euro all'ora, perfetto. Va bene ragazzi, ci promettete che stasera vi divertite? È buone allora, è buone. Ah, stasette che è la ciappa. Allora ragazzi, buon divertimento, buona serata, e fate casinissimo il saluto a mia casa. Grazie mille! Grazie mille!